Sono tornato Bella raga, io sono Marcos Grovan e signore e signore vi è tornato in un nuovo video sul mio canale e finalmente ritorna la programmazione normale e invece no e invece no perché riassunto delle mille vicissitudini che mi sono successe dunque sto incontenzioso con la telecom perché loro dicono che è colpa mia ma non capisco come faccia essere colpa mia se il fatto che non ho internet, me lo devono dare loro il 3G del telefono ha deciso che a casa mia non deve più prendere quindi che cosa ho fatto? ho portato il computer a casa dei miei infatti mi trovo nella camera di Kai Ferriotto di mio fratello dicendo sai che faccio? intanto stiamo a una ventina di chilometri ogni mattino mi alzo, vengo qui, registro poi per le 18 me ne vado quando torno i miei altrettanto ti do fastidio e faccio un po' d'ora di ufficio così regolarizzo la mia enorme insonnia che succede? che spolveriamo il PC io e il mio fratello e nel rimettere il dissipatore spacchiamo il coso del dissipatore quindi non riesco a ricominciare la programmazione normale come avrei voluto da oggi cioè da lunedì ho fatto un ordine su Amazon mi arriverà martedì o mercoledì e da allora ricominceremo Tech & Beacraft perché purtroppo sul PC di mio fratello non gira e senza dissipatore la Tech & Beacraft mi fa fondere il processore quindi ah e quindi per non lasciarvi senza video perché comunque ricomincio a settembre ho deciso di fare questo video sul mondo che abbiamo utilizzato del matpack nella live di 12 ore di Minecraft che è stata divertentissima che trovate sul mio canale Hitbox che trovate in descrizione e che prima o poi cercherò di fare degli estratti da 15 minuti sto spaccando il microfono dei momenti salienti perché effettivamente vedermi 12 ore di live dovrebbe essere un po' pesante a posteriori dunque che cos'è questo pack? perché sto andando così lento? perché non ho cibo? quindi prendiamo delle bistecche eccole qua come potete vedere c'è l'equivalent exchange o meglio c'è la versione aggiornata che si chiama Project E e questo pack è davvero davvero figo però ve lo faccio vedere dall'inizio noi abbiamo iniziato mangia l'ultima bistecca noi abbiamo iniziato qui ovvero nella sala dei mondi ogni mondo era inizialmente bloccato tranne la header quindi siamo andati nella header il problema è che nella header è successo un piccolo problemino quindi devo assolutamente incrare in creativa incrare in creativa per farvi vedere la header il piccolo problema dovrebbe essere uh non c'è più non c'è più fantastico c'era un wither perché sono venuto qui ad aprire dei dei lucky block perché c'era lucky block e li possiamo duplicare e mi è uscito il pozzo delle meraviglie ci ho tirato dentro una cosa è uscito un micro block e anche un wither che mi ha detto ti rompo il culo e quindi va bene questa qui era inizialmente casa nostra vedete c'è l'orticello con le cose da mangiare qui ci sono le prime cosine poi mi è uscito da un coso random mi è uscito sto fregno della IC2 e abbiamo fatto queste quest nell'ordine nell'ordine con suggerimenti dei ragazzotti perché io della header 2 non mi ricordavo proprio niente quindi abbiamo fatto le spade di legno le torce abbiamo calcato maiali abbiamo craftato una specie di uh nonno anale chissà se riesco a farvelo vedere in creativa dove si è cacciato nonno anale regà nonno anale è è il nonno di stupro anale se avete visto la ganda del craft 2 piton lì c'è un coniglio che è rimasto questo non è un coniglio che diavolo what non so che cosa sei mi fai molta paura ma è rimasto incassato sulle nuvole salterine vabbè nonno anale ormai è perso per sempre però un giorno lo ritroveremo e staremo sempre insieme lì ci sono i bagni e tutte cose abbiamo volato su un porco queste sono le mucche volanti se ci mettete la sella vi fanno planare abbiamo collezionato tutte le nuvole abbiamo domato il coso che abbiamo creato abbiamo fatto l'altare della patria e poi qui mi sono citato delle cosine perché mi chiedeva 130 pezzi di qualcosa che è mille volte più raro del diamante quindi chi te se in culo la magica bula e da qui poi abbiamo fatto il dungeon abbiamo sconfitto il guardiano del dungeon e da qui in poi siamo andati adesso non ritroverò mai più casa via questa mappa è una merda davvero questa minimappa io la odio profondamente tant'è che ho perso ogni punto di riferimento quindi andiamo a suicidarci perché tanto fortunatamente abbiamo messo il keep inventory eccole qua quando muori muori chi non muore si rivede ti ritorna qua una volta sbloccato la header ci ha sbloccato il nether regà il nether è stata qualcosa di improponibile voi adesso troverete casa tutta bella fatta ma è stato davvero davvero difficile perché stavamo lì con le armi stupide e c'erano i demoni della lica night mod e qui soprattutto c'è Yotobi voi dite che cazzo che quello non è Yotobi lo sappiamo tutti quanti che non è Karim ma dei miei iscritti hanno ribattezzato questo blocco che è bellissimo e divertentissimo Yotobi tra l'altro con abbiamo fatto una lamerata megagalattica in realtà questa non era la mia casa però una testa di cazzo che ha creato questo non un modpack ma una mod di questo modpack che non ricordo come si chiama Minecraft Alive Comes Alive ha fatto sì che quando clicchi su questo per la prima volta ti chiede vivi da solo sei maschio ti faccio una donna io ho fatto sì 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 e mi ha distrutto la casa precedente e mi ha creato un'altra casa di legno nel nether sai che ho preso fuoco quindi mi sono ripreso a ricostruirla e ho rifatto il generatore automatico di Yotobi cioè praticamente questo qui questo blocco qui in realtà è un è un notebook però ha questa forma e va bene lo prendiamo come dato di fatto però ho scoperto che se lo metto nel suo mille mi dà del coso e del diamante guardate no 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 vanno a finire direttamente qui dentro comunque mi dà del legno e del diamante il legno e del diamante vanno qui visto che questo qui costa soltanto 1500 scusate costa soltanto 128 un diamante me ne dà me ne dà tantissimi di questi perché un diamante è 8000 se non sbaglio i diamanti in eccesso vanno qui e noi farmiamo Dark Matter e questo è perché Marcus Crohn bugga tutti i fottuti pack cioè mettigli qualcosa di equivalente all'equivalent exchange e Marcus Crohn non te la cula rimaniamo incredibile perché vi devo far vedere anche l'altro mondo vabbè qui abbiamo fatto tutti i nostri cosini qui c'è la transmutation table con un botto di cose imparate ci stanno anche la roba della thermal è fantastico un letto di merda che non possiamo dormire Yotobi e qui c'è il coso della fossil di quella archeologic fossil quella che avevamo fatto nella Jurassicraft per fare i dinosauri ma credo soltanto nell'overworld cosa ci manca per andare nella nuova dimensione ci manca il maledetto Deep Dark ah vi faccio vedere i goal del nether perché non erano tanto facili erano fai il pick up che è un piccone che distrugge soltanto la stone e la netherrack che è stato fighissimo trovi i diamanti che è stato davvero difficile trovare i diamanti nel nether fai la transmutation table la philosopher stone uccidi i tre wither abbiamo fatto un casino per ottenere le teste un casino incredibile abbiamo fatto una mela di diamante e alla fine abbiamo ucciso un bellissimo wither boss tra l'altro tra l'altro tra l'altro nel nether mi è venuto lo schilibizzo di aprile 64 nether star e lucky block all'inizio tutto tranquillo ho ottenuto così poi c'è una certa oh vedi i demoni ciao demoni questo ti rompe il culo però noi abbiamo adesso la spada di red matter che vabbè è fortina è una certa che mi è uscito mi è uscito quitter però l'ho battuto è una certa che mi è uscito mi è uscito l'ender dragon l'abbiamo battuto ma io sono saltato nel momento in cui lo colpivo sono finito nel land e nel land c'è la versione potenziale dell'ender dragon della hard mode ender pack qualche cosa ci ha rotto il culo ci ha proprio rotto il culo siamo tornati mesti mesti qui con però la cosa che voglio assolutamente rifarlo purtroppo mi hanno bloccato in questo pack l'armatura di dark e di red matter quindi ci attacchiamo un po' allo zufolotto per le armature ma vabbè ci faremo quella della draconic ningù problema e infine abbiamo dovuto uccidere e collezionare il drop dei mosti della liga knight tipo il demone di prima per ottenere una chiave con questa chiave potremmo fare un rituale andando nel dark nel deep dark e evocare lui ora adesso sto in creativa però poi lo faremo lecitamente questo tizio è fortissimo ha 1400 punti ferita vediamo un po' quanti ne hai? una 1300 13200 scusatemi ha un fattore di generazione che Wolverine se lo sogna mi caga lava e mostri in quantità e praticamente non siamo riusciti a sconfiggerlo malgrado ci siamo corazzati tsunami is over perché qui ci sono gli eventi piani di mostri di quelli che assomigliano a doom eccetera eccetera tra l'altro mi ha debaffato il maledetto eccola qua malgrado noi abbiamo fatto la casa di Yotobi volevate il maledetto ragazzi eccolo è bellissimo è bellissimo è bellissimo e quindi e quindi e quindi ci manca questo qui per andare avanti probabilmente lo faremo nella prossima live che sarà sempre di 12 ore se non la prossima nell'immediato ci saranno anche live normali però la prossima live di 12 ore sarà sempre su questo pacchetto con i vostri suggerimenti ci siamo davvero davvero spaccati e come avevo detto precedentemente sicuramente metterò degli estratti sul canale sperando che l'audio e la webcam siano siano sincroni piuttosto che asincroni quindi 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 io vi esorto intanto ad andare su hitbox moltacci tu mi hai messo mi hai fatto tipo super paura dov'è che si torna indietro mi sono perso pronto? oh my gosh dov'è il fregnaccio buffo vabbè me fortunatamente dentro la crafting table ho il lab teleporter eccolo qui e posso ritornare a casetta vi stavo dicendo mettete il follow che è gratis a hitbox perché così ricevete le notifiche davvero è stata una bellissima live io torno appena mi arriva il case del dissipatore nuovo quindi su youtube ritorno alla programmazione normale con la tech mbcraft con la magicraft con la techit con keletan e poi con la treninocraft non vi preoccupate ritorno a terraria e poi ritornano finalmente perché adesso sto qui a registrare c'è il condizionatore ritorno anche i miei webcam quindi vedete la pelata spero non così lucente perché francesco c'ha solo la luce qua sopra e tutto ciò anche i 20 km al giorno andate tornate soltanto per registrare sia è un po' per me un po' per voi perché al fine è il mio lavoro però mi diverto un sacco quindi se voi volete supportarmi l'unica cosa che vi chiedo è come al solito lasciare un pollice in su se il video è piaciuto e una condivisione se vi è particolarmente piaciuto e di farmi conoscere con i vostri amici signore e signori io sono marcus cron ho parlato tantissimo era un mese che non registravo così ma sono contento di essere tornato manca poco appena Amazon mi mandò il distributore bella regà ciao